Salve da Marco Calabro, per conto di Amaci Casa Italia. Ci troviamo oggi da Spazio Design a Roma, in via Cristoforo Colombo 448. Stiamo vedendo un divano estremamente comodo, lo dice anche il nome, Infinity Soft. Il divano viene realizzato dalla Fox, ha un'imbottitura veramente eccezionale, superlativa. Il divano ci viene presentato per Spazio Design, qui lo stiamo vedendo, con un canapone, quindi un tessuto, e con una chasse longa che se vedete ha la caratteristica di girare attorno al bracciolo, cioè di inseguire il bracciolo. Cosa questo che normalmente rende più gradevole il divano, evidentemente è una lavorazione maggiore. Grazie sempre per seguire i video di Amaci Casa Italia e arrivederci al prossimo video.